fratelli bianconeri e sorelle bianconere attenzione 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 occio come si sa le mie parti numeri che salgono iscrivetevi al canale like al video i vostri commenti perché li leggo anche quando non c'è la voce io me li leggo per quanto mio e naturalmente azionate la campanella ci siamo sta per finire finalmente questa settimana questa settimana da delirio mediatico e un po anche da sindrome di accerchiamento che ha preso tutti noi perché ogni mattina ci svegliamo leggiamo qualcosa di nuovo qualcuno che parla qualcuno che straparla qualche dato negativo qualche sentimento negativo qualche cda che dovrebbe fare chissà che cosa invece non lo farà qualche allenatore vecchio che sembrerebbe riproporsi qualche allenatore nuovo che sembra che sia sfuggito eccetera 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 allora domani c'è il consiglio di amministrazione della juventus venerdì che deve approvare la semestrale negativa del bilancio già in previsione e capire cosa succederà poi nei successivi consigli in vista poi come sempre tutti gli anni dell'assemblea degli azionisti il consiglio di amministrazione per sua stessa natura non va a prendere provvedimenti tecnici ma va a prendere coscienza della situazione economica per ratificarla in vista poi di quello che sarà naturalmente poi la nuova situazione di fair play finanziario che verrà che non c'entra più niente con quello di prima che sarà scadenziata negli anni puoi spendere fino al 70 per cento 60 per cento l'ottanta per cento il 40 per cento il 50 per cento quello che decideranno loro dal punto di vista entrate uscite ma comunque non c'entra più niente con quello che abbiamo vissuto nel passato poi mi direte che ci frega noi i soldi non sono nostri esattamente i soldi non sono vostri nei miei quindi che vi frega a voi interessava un'altra cosa ma smettetela di dare letta a tutti quelli che sui social dicono che verrà il consiglio di amministrazione verrà esonerato allegri perché non è vero ragazzi basta non è vero non è vero volenti o nolenti che voi siate pro che siate contro non è una notizia questa è una notizia non succederà la situazione è molto chiara la situazione è molto chiara nonostante la sconfitta di monza prima della partita arriva bene amministratore delegato non è che aveva confermato allegri ha spiegato che lui dal punto di vista gestionale della juve quindi società juventus e lui max dal punto di vista della gestione tecnica della squadra hanno avevano avranno un progetto un programma di 3 barra 4 anni uno era quello passato l'anno scorso uno e questo sono due quindi ne manca ancora un altro oltre questo se non due questo evidentemente non vuole dire chiaramente che se tu perdi 50 partite consecutive siccome c'era in un progetto o un programma di quattro anni questo progetto programma verrà rispettato ma l'amministratore delegato arriva bene e il presidente andrea agnelli ognuno per la sua parte dicono che si va avanti così poi qualcuno vi vuole insinuare o spiegare che ci sarebbe il vicepresidente che nebbe che già cinque alla fine dei cinque anni del principio di allegra era spinto per mandarlo via e non lo voleva e quindi e contro eccetera eccetera tutto quello che volete ma di fatto la linea della società juventus è per tenere ancora allegri allora cosa deve capitare in questo istante è molto semplice molto chiaro guardando i dati i dati i dati dicono che statisticamente in quelli che sono le voci che ti devono far vincere le partite la juventus è un po in fondo a tutte le classifiche quindi non è che c'è una cosa da cambiare da migliorare c'è tutto da cambiare e da migliorare dal non possesso palla fine a se stesso orizzontale centrocampo dal possesso palla ravvicinato negli ultimi diciamo 30 metri dalle occasioni da gol create dai gol e dalle situazioni di expected gol subiti dalle conclusioni non solo dentro la porta ma verso la porta perché se verso la porta teniamo sette volte in una partita o dieci come è successo a monza e due sono nello specchio se due volte tiri nello specchio della porta è evidente che una volta mi reti sulla faribatter l'altra volta che sbaglia il gol del pareggio di l'anno di testa centrale fine delle sue occasioni ne avessi avuti altre cinque così magari un golletto lo facevi se non due questo però è scoprire l'acqua calda ma è così noi dobbiamo migliorare in tutte queste voci per migliorare in tutte queste voci bisogna innanzitutto recuperare giocatori perché poi le alternative se ti giri in panchina e tutta l'under 23 non ce l'hai e con il bologna dovremo recuperarne almeno tre in seconda istanza tutti i giocatori che sono e saranno a disposizione devono andare ad un corso accelerato secondo me tra giovedì e venerdì prossimo prima della partita domenica sera contro il bologna di nuova autostima di grande convinzione di personalità da ritrovare di lucidità mentale e speriamo in questi 10 barra 12 giorni di nazionale quelli che ovviamente non sono infortunati che sono rimasti a lavorare a torino in questi 10 barra 12 giorni di nazionale respirando aria nuova magari anche con risultati diversi con le nazionali rispettive di appartenenza che ritornino dei giocatori puliti dal punto di vista celebrare e che abbiano completamente dimenticato e lasciato a casa quelle due brutte apparizioni di fine partita una dopo il benfica allo stadio e una dopo monza allo stadio dei brianzoli perché la squadra sotto il settore ospiti o la curva in casa a sentire gli insulti a beccarsi fischi e a guardare attonita è un'immagine che non deve essere più riproposta assolutamente non deve essere più riproposta quindi la situazione di mister allegri dei suoi giocatori va al 13 di novembre da domenica sera col bologna la prossima non questa ma l'altra al 13 di novembre ci sono 12 scogli da arginare da dribblare da superare e da affondare sotto i propri piedi per andare avanti questa è questa è non domani considerando in questa è la prova che si chiede ad allegro o meglio che la società chiede ad allegro che rimane sotto osservazione per le prossime partite in vista poi della sosta mondiale e quindi juve bologna maccabi o maccabi che si voglia a milano con il mila di nuovo il maccabi o maccabi il derby col toro l'empoli il benfica a lisbona il lecce il pari saint germain a casa nostra il derby d'italia il verona e la lazio quindi c'è un menù molto ricco ci sono pietanze molto diversi ci sono sapori a volte dolci a volte molto acidi e quindi bisogna essere bravi allegri deve essere un bravo chef e mettere insieme gli ingredienti giusti ma soprattutto dare una nuova via motivazionale a questi ragazzi perché insieme nulla è perduto tutti insieme si può mettere una pezza questo brutto via di stagione e cambiare un po le nostre prospettive iscrivetevi al canale like a video commenti e campanella